Oltretutto, le lottari oggete annunciano ulteriori problemi. La figlia, la figlia adulta di Aspetta, si sta compiando la realtà di noi. Il resto avrà una figlia tutta sua, un po' del bonte da Sfavare. E non passerà molto tempo prima di dormire qui a cacciare il territorio della madre. Il brato si dedicherà alla caccia di fuori. Le giovani tigri di un anno si esercitano fra loro nell'arte della caccia. Per catturare una prega servono a forza e agilità. Poi bisogna saper tendere l'acquato e sferrare l'attacco. La loro sopravvivenza dipenderà dalla loro abilità di redattore. Ma per altri otto mesi continuerà...